Si torna in campo questo pomeriggio con un solo obiettivo, preparare al meglio la difficile trasferta di lunedì sera a Chiavari. La Salernitana dopo due giorni di riposo ritorna a calcare l'erba perché all'orizzonte c'è già la sfida con la Virtus Entella. Bollini ritroverà il gruppo e valuterà la condizione di tutti i calciatori per capire quale formazione dovrà presentare al cospetto dell'undice allenato da Breda. Per la trasferta in Liguria il tecnico Granata avrà nuovamente a disposizione anche gli squalificati in prota e doger assenti nell'ultima gara di campionato vinta alla Rechi contro il Brescia. L'unico assente sicuro sarà il centrocampista Massimiliano Busellato alle prese con un problema muscolare che non tornerà in gruppo prima di una settimana. Bollini dopo due risultati positivi vuole continuità ed è per questo che potrebbe affidarsi nuovamente al modulo 4-3-3 che tanto bene ha fatto sia contro il Benevento in trasferta che contro il Brescia tra le Muramiche. Rispetto alla gara con le rondinelle però potrebbe cambiare qualche interprete in campo vissi diversi recuperi e soprattutto in virtù dell'idea da sempre portata avanti da Bollini che vede tutti i calciatori potenziali titolari. C'è ancora tempo per capire che scenderà in campo lunedì sera nel posticipo di Chiavari ma una cosa è certa sarà una salernitana ancora una volta a trazione ulteriore con il tridente offensivo che può esaltare le qualità delle bocche di fuoco Granata.